Musica Prosegue il nostro viaggio all'interno delle varie attività dell'amministrazione comunale di San Giuliano Terme quest'oggi in esterna per scoprire un'area naturalistica potenzialmente molto bella che il comune sta appunto adattando ad una piena fruizione da parte della cittadinanza. E allora con il nuovo assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi parliamo di questo bellissimo luogo a molti sconosciuto ma che adesso è coinvolto in un progetto di riqualificazione ambientale molto importante con varie sfaccettature partiamo da quello più naturalistico, qui ci potrà anche essere un lavoro di didattica ambientale. Certamente, già in passato il Museo di Storia Naturale di Calci aveva collaborato con la provincia per la realizzazione di un percorso didattico e venivano svolte delle visite guidate con le scuole. Quindi anche per il futuro si potrà proseguire su questa strada. Assessore, comunque qui ci saranno vari modi per poter usufruire di questo luogo a meno, possiamo definirlo così. Quali potranno essere gli utilizzi dei cittadini, del comune, anche di fuori comune una volta che tutto sarà attivato? Beh, ovviamente oltre a poter godere di questo posto semplicemente facendo una bella passeggiata e godendosi del paesaggio e dell'ambiente circostante, si potrà venire qui in quest'area picnic dove siamo adesso dove ci sarà anche uno spazio per eventuali barbecue grigliate, ci sarà uno chalet che potrà servire come punto ristoro per tutte le persone che vorranno godere di questo posto e ci sono anche altri aspetti come per esempio per gli appassionati di fotografia ci sono delle zone dove poter scattare foto naturalistiche e sarà completato e ridefinito un cassottino per il birdwatching che potrà essere utilizzato sostanzialmente da chiunque e soprattutto poi collegandolo anche alle visite didattiche per le scuole potrà essere un punto dove avere l'occasione di osservare dal vivo alcuni uccelli che sono presenti in questa zona. L'obiettivo fondamentale è sostanzialmente cercare di rendere il più fruibile possibile questa area ai cittadini che ne vorranno godere con il rispetto ovviamente delle regole. Un punto importante sarà anche la realizzazione che è già stata fatta di uno sgambatoio per cani in maniera che le persone che vengono qui con il loro amico a quattro zampe possano lasciarlo libero di correre in quest'area e godere appunto anche di questa opportunità. Ricordiamo che tutto quanto nasce da una convenzione stabilita tra il comune e la proprietà privata di quest'area ditta Donati, una convenzione che nei suoi sviluppi prevederà anche altre situazioni importanti di cui potranno beneficiare in primis gli abitanti della frazione di campo? Sì, la convenzione prevede che nel corso del tempo vengano realizzate alcune migliorie alla frazione in particolare alcune già realizzate nel corso degli anni precedenti per quanto riguarda gli impianti sportivi di campo e anche per la sicurezza del paese. Un occhio sempre attento verso l'ambiente è quello anche che si occupa dei rifiuti e qui c'è un assetto particolare che pensa a questo. Sì, qui è stata realizzata un'elettrocompostiera che servirà a convogliare qui l'organico della frazione e al realizzare del compost che potrà essere utilizzato già dagli agricoltori del luogo. Sono già stati degli agricoltori che hanno manifestato il loro interesse e a breve spero si possa riuscire ad attivare questo impianto. E sempre in un'ottica futura non dimentichiamo che questo ambiente è comprensivo di due laghi c'è un progetto che riguarda anche il secondo lago che per ora è fermo con le quattro frecce. Sì, siamo in attesa poi di stipulare meglio un'altra presa in gestione anche del laghetto Est e di questo se ne parlerà nel 2021 per vedere anche lì cosa poter realizzare. E quindi è sempre positivo pensare a un luogo che da qui a qualche mese potrà diventare un punto di aggregazione quotidiano per chi vorrà appunto soffruirne. Sì, il punto è proprio quello. La fruizione pubblica è uno degli obiettivi di questa amministrazione anche perché luoghi frequentati e fruiti sono luoghi in cui è più difficile che si verifichino episodi magari di vandalismo o comunque comportamenti scorretti che possano danneggiare gli ambienti che purtroppo sporadicamente ancora oggi registriamo. Parliamo adesso della possibilità che del resto è già in atto di una collaborazione tra il comune e varie associazioni che possano avere ognuna una sua specificità per soffrire meglio di questo spazio. Intanto le chiedo, avete pensato all'ipotesi di sfruttare specificatamente lo specchio d'acqua magari con un'associazione che disponga di un noleggio canoe? Sì, quella è una delle idee. Ancora dobbiamo vedere bene come inquadrarla nel progetto finale di bando per la gestione di quest'area, però l'idea è sicuramente venuta, diciamo, è stata considerata. Quindi si pensa alla possibilità per chi verrà qui appunto di farsi un giretto in canoa nel lago o eventualmente anche con dei piedalò o comunque con strumenti di questo tipo, canoe, piedalò eccetera per poter appunto godersi il lago anche non solo dalla terraferma ma anche con un po' di navigazione. E poi c'è l'aspetto da sfruttare che voi sapete benissimo che è quello del birdwatch in un ambiente ideale. Sì, ambiente ideale e non solo birdwatching ma anche una collaborazione con la Lipo che ha partecipato sia nella progettazione o comunque nel darci validissimi consigli per meglio posizionare il capanno e come realizzarlo ma anche per inserire in questo contesto dove ci sono ovviamente tantissimi alberi anche dei nidi che possano favorire la nidificazione di varie specie, per esempio fra le cince oppure petti rossi o anche rapaci come l'allocco. E poi, e chiudiamo con lei e introduciamo un settore specifico, un'altra peculiarità è quella che riguarda i cani da salvamento due parole prima poi di sentire interessati, Assessore. Sì, qui ormai da diversi anni questi laghi vengono sfruttati per addestrare cani da salvamento ci sono ormai due associazioni, una che si occupa dell'area più a sud del lago e una che invece opera nella parte più a nord. Un ambiente naturalistico bellissimo qui al lago ovest di campo nel quale si può anche svolgere un'attività tanto importante quanto bella a vedersi. Parliamo di come si svolge, quando si è impiantata qui e che orari ha anche? Buongiorno, io sono il presidente e nonché responsabile istruttore della scuola italiana Tranova oramai sono oltre dieci anni che collaboriamo con il comune di San Giuliano in linea di massima siamo qua quasi tutti i giorni, dalla mattina fino al primo pomeriggio la scuola è aperta a tutti i tipi di cani e anche a tutte le persone che vogliono avventurarsi in questo nuovo percorso cinofilo. Che tipo di esercizi vengono svolti qui, la loro importanza e quanto tempo ci vuole per preparare un cane a fare i movimenti che stiamo anche vedendo già adesso? Allora, per preparare un cane ci vuole diverso tempo, si parte subito da cuccioli a tre mesi noi facciamo prevalentemente salvataggio nautico sportivo, cioè gare a livello nazionale e internazionale di cui possiamo vantare parecchi dei nostri binomi come i migliori binomi che ci sono in Italia e anche in Europa. Diciamo che lavorare con questi cani dà molta soddisfazione e ovviamente è un pochino come lavorare con ragazzi a scuola più tempo ci perdiamo, più risultati otteniamo, meno tempo ci perdiamo, meno risultati otteniamo. Gli esercizi vengono svolti, in questo caso d'inverno utilizziamo dei manichini, delle boie o dei gommoni con il clima più mite e anche noi andiamo in acqua dove simuliamo di fare il figurante, l'affogato quindi il cane ci porta una sciambella, insomma c'è diversi modi per recuperare la persona. Da quanto tempo hai iniziato a fare questa attività, soprattutto che esperienza è? Allora praticamente ho iniziato quando Kira aveva cinque mesi, adesso ne ha otto, sono passati sette anni e mezzo diciamo. Come esperienza è un'esperienza bella perché comunque sia attiforma, forma ti cambia la vita, cambia la vita in positivo diciamo perché comunque sia accresce il rapporto che c'è col cane, diventi una cosa sola, ci capiamo proprio a sguardi, cioè non si può spiegare, basta farlo. Comunque poi il bello è quando arrivano anche i risultati, quando si fanno i brevetti, dopo tutto gli sforzi degli allenamenti, quando finalmente arriva il pratitico giorno del brevetto con tutta l'ansia che c'è dietro e ottieni quella famosa medaglia che sì, l'importante è partecipare ma arrivare primi, diciamoci come dice il coach, le gare si vanno a ritirare sul campo. Io mi sono avvicinata da pochissimo a questo mondo nonostante siano anni che lavoro con i miei cani perché è la mia più grande passione, però avevo una seconda grande passione che era l'acqua e non sapevo di avere vicino a casa non solo questo posto meraviglioso ma anche un coach insomma competente in grado di farci cominciare, entrare in questa avventura, in questo nuovo sport che poi alla fine ho scoperto essere quello che voglio davvero fare. Siamo un gruppo di persone a cui appunto, io sono l'ultima arrivata, però ho respirato subito un'atmosfera molto amichevole, molto solidale perché c'è alla base lo stesso divertimento, la stessa voglia di costruire qualcosa con il cane perché quando si lavora con il cane il rapporto che si costruisce è completamente diverso, molto più profondo, molto più intimo e quindi non potevo trovare posto migliore e sicuramente anche insegnante migliore che rispetta sempre i tempi del cane e anche del proprietario lavorando sul binomio non solo sul cane. Grazie per la visione!